E' uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis. Al di sopra di una certa soglia rientra tra le sostanze proibite dalle leggi del doping, ha un effetto euforizzante, seguito da sonnolenza e provoca una diminuzione della forza muscolare e dell'attenzione. Gli effetti avversi del TH ci riscontriamo, tachicardia, ipertensione e allucinazioni.